Ma c'è tipo un coltellino o qualcosa che... Vedi qua abbiamo fatto a 200 allora, al far siamo arrivati in zona. Sì, no, non sono arrivati pure... Oh, la mella rosa... C'è la madonna... Ah, a proposito, cercate di... Diminuire le parolacce perché non ho voglia di evitare... Tipo c***o a 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 c***o. No, c***o a 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 c Quindi? Qualcuno mi aiuta? No no ma grazie eh, no 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 grazie, su serio Ho fatto pulizia Siete veramente dei gaglioffi Stai con me? Quando vi dirò va a volare Siete tutti dei gaglioffi Siete tutti in gran forma si di solito Ah c'è la witch Dov'è la witch? Aspetta no no no, aspetta 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 Ditemi dov'è la witch È lì dietro il spulio Posso farlo esplodere? No aspetta aspetta che ci do un regalino E che ci do? È lì Aspetta 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 Non esplode Ah ecco esplode Allora esplode Chi è che mi ha sparato? Ah io Grazie Soprattutto Ma finisci Deve essere la witch Si ho capito ma non sparare a me Eh come non detto Hai visto che l'ho uccisa? Eh certo Che è? Sono già in bianca e nera No no Mi hai invitato? Dov'è il silenzioso pollo? Il silenzioso pollo E' il famelico E' il pollo E' il ghiglio del pollo loco E' il ghiglio del pollo loco E' il pollo de me E' il c***o 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 Ah ci mancava Cosa ci ha sputato? Sto sparando Qualcun'altro? Cos'è? Chi è che sei sgonfiato? Ma c***o Andi qua Andi là Oh Oh questo non me la ricordavo sta zona guarda Come no? Sono ironico Ah! Cosa sa? Cosa sa? Dov'è l'hunter? E' morto? Uh già ok E' che m***o Finisci Stavi curando te Sono tutti i bip che devo mettere io adesso Sto insultando quel cinese di Alice Ecco Perché vi fate sempre tanti amici voi? Perché siamo dei compagnoni Siamo della gente di compagnia Che sto facendo? Non riesco a scavalcare Andiamo 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 a far saltare Palapapapapapapapapapapap Yeah like it Quanto mi piace fare esplodere le colle. Ecco, perchè? Perchè? Si vabbè ma... Che è il pollo sta mani di **** sbaglio? Certo, se continua a farci esplodere la roba a un centimetro di distanza. Veramente non so io, visto che c'è una motosega è difficile farci esplodere la roba. No, dicevo amichis. Chi è quel maleducato che fa esplodere le colle? Si è ritenuto qualcosa di grosso. C'è un tank da qualche parte, comunque. Morco! Dicevo. No, stiamo già a due a quarta metà. Via, via, via! No, mi ha preso, mi ha raggiunto. Dov'è? Vai giù! Aia! Oh, ca... Perchè non scende? No, ma non lì, non devi scendere lì, devi scendere qua. Qua devi scendere. Oh, vai a fuoco un po'. Non ho più né pistole né niente. Sono un bersaglio. Io mi leverai di lì. Vabbè. Andata, 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 hanno fatto... Dai, salvami. Salvami. Andiamo a salvare gli altri. Salvami. Quei due povere mentecatti che neanche ci sono riusciti ad aiutare. Sono un bianco e nero di nuovo. Mentecatti! Sulla scala! Uno sulla scala. Cosa spari? Ma non zombie, non zombie! Come non zombie? È la febbre, è la febbre. La febbre, la febbre. È il momento dell'angolo della febbre. Ma sì. Ah, qua è arrivato il momento. Cosa c'ha sto mouse? Oh! Munizioni. Arriva shinobi che spacca culi qua. Ah, di corsa la facciamo. Pollo, pollo, ale, 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 ale. Pollo! È andato allo. Per l'età. Cos'hai combinato? Ti sei auto fatto saltare per aria. Cos'hai combinato? Vuolo farmi quelle patate. Ma che che è? C'è un via vai da quelle parti? C'è un via vai, allora decidi bene di startene anche. Di vai! Dicido di vai! Sì, in realtà. Porca di quella. Ma vaff... Eh... Da tutti i quorma vedo. Parami il culo. Come si dice? Ma lo sai veramente... Quell'altro sta morendo ancora, talazzo. Ma cap... Ma stai morendo. No, ma va benone, mi sembra. Ti vedo in gran forma, eh, comunque. Mi sembra stia andando bene. Tra l'altro Alice ha lasciato questa balla di lacrime e nessuno lo libera. Dov'è? Eh, era qua dietro. Ah, non l'avevo notata. Fa niente bello che non l'ho vista, ti dico. Tanto il polo lo vedo in gran forma. Ah, co... Ah, se... Mi che c'è, lo so... Tutto sei con lui a riuscirci. Ah, sì. Me ne fitto. Ah no, povero. Charger... Boom. Addio Sandgat. Nooo! Come è morto? Con una scoreggia? Cosa è successo? Ma è svoloso. Ma non ti preoccupare Ale 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 C***o C***o Ah che frega la roba guarda tu Io lo salvo Non sei quanto in vano Io lo salvo e tu li ciuli Il curativo Ti ci sono davanti solo dei mazzo da baseball Bum Qua c'è dei curativi Dove sono i curativi? Diventa pieno Mio mi serve tantissimo Il punto è solitamente in cui moriamo regolarmente Perché mi volevi uccidere pollo? Stavo spaccando le vetrine Sento tanta araccia meccanica Si ma hai preso anche me Ero a 8 Tra l'altro di vita mi stavi prendendo a bastonate No perché subito Sei il solito rompi con No perché con questo zelo Tutto questo zelo Oggi mi sento arcaico Stiamo giocando a Ninja Gaiden? Ero a 9 e 1 What for? Vale for Cosa hai lanciato? Si unica cosa dove arrivano tutti quanti insieme Alice ci ha lasciato la ghirbona L'ottimo Alice Ma porco Funtamentale Alice M***a Cioè Vomito Via 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 No aiuto Via via magari dopo Salviamo dopo Arrivo La cucina è nel tavolo La cucina è nel tavolo? Sì 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 Dov'è il pollo? Che lo vedo zoppiccare Fendendo Ma la Coca Cola invece? La Coca Cola Wow Yeah Porco C'è tutto esaurito Arrivo Ma porco Ecco C'è tanta roba Un uomo che corre in me La vedo complicata Dove vai? Ma riusciremo mai nella vita a finirlo? Morto Sei tu l'unico in vita Conta nessuno di me Allora Ma perché siamo sempre molto vicini ed uniti Perché Stay together for survival no? Sì Mi sembra di sì Dio santo Quanta gente Ce l'hai dietro Scappa 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 Eh Ti ho detto di scappare Siamo finiti Tattattattata Ce la facciamo rimanere uniti stavolta Invece di partire Io ti vedo no A naso No lo faccio ora Ci rimaniamo uniti Sennò vi unisco Con l'Atac Va bene Vi lego con un Con una corda da pacchi Con una serie di caviti S Jackson Sulu 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 Grazie a tutti.